Diplomata con il massimo dei voti presso il liceo classico. È laureanda al Dams. Inizia a recitare a teatro all'età di 10 anni. A 16 anni inizia a lavorare come presentatrice e autrice televisiva in varie emittenti locali. Con programmi come Mixing, con l'avvocato Nino Marazzita e il Seven Show. Con Antonio Stornaiolo, per la reggia di Giancarlo Nicotra. Conduce eventi nazionali ed internazionali nel mondo del cinema, del teatro, della moda, della letteratura, dell'enogastronomia. Lavora come fotomodella per servizi pubblicitari nazionali ed internazionali. Fra cui lo spot Cadbury del regista Jonathan Glaser. Inoltre posa diversi anni per fotoromanzi lancio e per la rivista Cue. Nel 2006 collabora domenica in investe di intervistatrice. A cui seguiranno altre esperienze simili in programmi come Mi Fido di Te. Fattore C. Bombay e Ciao Darwin. Su Italia 1 prende parte a Talent 1 Night. La notte dei talenti per aspettare il capodanno 2008. Nel 2008 prende parte a Talent 1 nello spazio Talent 1 Player su Italia 1. A seguire lavora come conduttrice per la società americana telemedia in programmi come Quizline. Nel 2009 partecipa come concorrente a Ballando con le stelle. Quinta edizione. Ballando insieme al partner professionista Simone Di Pasquale. Conduce con Pipo Baudel Tour e l'evento Rai Gram Gala del Made in Italy. Ha inoltre recitato in varie fiction televisive. Fra cui Don Matteo e Caterina e le sue figlie e Do ha sposato uno sbirro. Oltre che in alcune produzioni cinematografiche come Maschi contro Femmine nel 2010 e Femmine contro Maschi nel 2011. Nel 2011 conduce il programma Social King al fianco di Livio Bescher in diretta su Rai 2 e tutti i giorni su Rai Gulp. Con Monica Marangonella conduttrice dello show di Rai 1 ci tocca anche Sgarbi. Per la regia di Riccardo Di Blasi. Conduce in giro per l'Italia con G. M. Galiano il programma Winbar. Nell'estate 2012 è l'inviata da Londra di uno mattina estate in vista dei giochi olimpici. Nella stagione 2012-2013 è nel cast di uno mattina storie vere. Ha scritto e condotto per Rai 5 il programma Lezioni di Bon Ton. Premiato come programma di qualità con la conchiglia Moige 2013. Nel 2013-2014 è in diretta in giro per l'Italia per uno mattina verde. Rai 1. Collabora Buongiorno Benessere. Programma della domenica di Rai 1 con Vira Carbone. Come conduttrice. Conduttrice di dirette e servizi per uno mattina. Ciao come stai, ha conti fatti, lavora come consulente, autrice creativa per reti, realtà ed aziende che si occupano di intrattenimento e didattica per ragazzi. Come Italia 2, Enlight, Alpha Park.